dei miei temi preferiti e quello che io ritengo che dal nostro dialetto quale che sia nasce un senso dell'umorismo diverso a seconda della nostra parlata diciamo, no? Quindi se parliamo in un modo, vengo subito al punto, ci sono alcune cose che mi fanno ridere basta osservarle, noi siciliani siamo avvantaggiati da questo punto di vista perché basta guardarci intorno, c'è un amico mio, un grandissimo fotografo di cui tutti i siciliani siamo orgogliosi perché si chiama Angelo Pitrone, bravissimo fotografo geniale secondo me ed era geniale anche da un ragazzo da un altro punto di vista a Hidro ci piacevano le cose da umorismo involontario, per esempio, ora ripeto, quando eramo picciotti Gianfra c'è stato un cavodo impressionante, la temperatura è insopportabile, 40 gradi all'ombra ma io me ne futto, mi metto sole Gianfra c'è Grazie Grazie Grazie